Allora, chiamo adesso a raggiungermi Michele De Tavonati, che è vicepresidente del Consiglio Nazionale Commercialista ed Esperti Contabili. Ci sediamo però noi, direi. Allora, Tavonati, intanto vabbè, il commercialista, io non mi sono ancora presentata finora, sono condirettore di economy, siamo media partner di questo evento, lo stiamo trasmettendo anche noi sui nostri canali e relazioneremo sul prossimo numero di economy su questo evento. Spesso noi scriviamo, quasi sempre quando parliamo di commercialisti, che il commercialista è di fatto il primo partner dell'impresa, come se fosse un socio a co-interesse, eccetera, eccetera. Il commercialista quindi anche può incidere sulle scelte imprenditoriali, sempre all'insegna della sostenibilità di impresa, quindi sostenibilità economica, oltre che sociale e ambientale, l'efficio messamento di S&G, e adesso c'è anche in ballo transizione 5.0, quindi state studiando, c'è poco tempo. Lo dico per la generazione Z, transizione 5.0 è un ambizioso piano che è stato appena varato, che mette sul piatto 6 miliardi e 300 milioni di euro per le imprese per la doppia transizione energetica e digitale, quindi non c'è tempo da perdere. Quindi voi sarete adesso berati di carte da studiare, di cose da fare, di cose da spiegare alle imprese, giusto? Grazie. Prendo spunto da quanto il prorettore e Pecoraro Scagno hanno detto all'inizio, andando in sintesi dicendo che non può sintetizzarsi tutto la transazione di sostenibilità, sul bilancio di sostenibilità e su un acronimo ESG, e non può soprattutto essere sintetizzata solo sull'attività del commercialista come consulente di impresa. Le imprese filosoficamente stanno passando dalla massimizzazione del profitto a una consapevolezza ambientale e sociale. È un passaggio però, perché tutto sommato il mantenimento del profitto e la crescita comportano la perpetuazione dell'impresa stessa. Quindi riuscire a sintetizzare e a semplificare una minore massimizzazione del profitto, tenendo conto, nell'ambito della gestione dell'impresa, della responsabilità sociale e ambientale dell'impresa stessa, soprattutto quando questa impresa è manifatturiera, è un passaggio molto semplice e non si può riassumere con l'acronimo ESG e con il bilancio di sostenibilità. Però comunque sia da qualche parte bisogna partire per arrivare. Alcune imprese, soprattutto quelle più internazionalizzate, le più grandi, quotate in borsa, il bilancio di sostenibilità con la relazione di sostenibilità lo stanno già facendo. Che questa sia la soluzione della transazione verso la sostenibilità è tutto da vedere. Il commercialista, c'è sempre un commercialista in diverse figure che lavora per o con l'impresa. Quindi sicuramente per quanto riguarda la transazione della sostenibilità, il commercialista per l'impresa, soprattutto per la medio-piccola che fa riferimento alla professione, sarà di supporto. Però non può essere la soluzione perché il commercialista interviene spesso nella parte successiva alla parte decisionale. L'imprenditore o il board di direzione decide da solo e a volte decide in virtù dei consumatori, delle abitudini o delle richieste, che poi queste abitudini e richieste siano stimolate dall'impresa stessa, dovrebbe fare un convegno anche su quello. Poi c'è anche il tema della responsabilità di filiera. L'Europa con la CSRD, la direttiva europea sulla responsabilità sociale di impresa, impone questo controllo. La sostenibilità sociale e ambientale dell'impresa non passa o non si sintetizza, l'ho detto prima e lo ripeto, con il bilancio di sostenibilità. Il bilancio di sostenibilità quando viene stilato ormai è successo tutto. È un documento composto da tanti altri documenti che fotografa quello che è già successo nei numeri o nelle relazioni. Quindi in realtà la sostenibilità deve succedere prima del bilancio di sostenibilità. Deve essere una strategia. Noi però interveniamo nell'ambito del bilancio di sostenibilità. Condividiamo o collaboriamo nelle scelte strategiche che però sono molto spesse del board che deve avere filosofia e coscienza di sostenibilità ambientale e sociale. Abbiamo qui tanti giovani, abbiamo la generazione Z e tra le domande che sono arrivate proprio per lei, ce ne sono tre che proprio riguardano i giovani e riguardano la professione. Allora vado con la prima intanto. La professione di commercialista quanto tempo richiede per l'aggiornamento continuo? Bell'impegno immagino. La professione di commercialista come le professioni ordinistiche passa da una formazione di carattere universitario con un tirocinio che è composto di 18 mesi con 6 mesi possibili da svolgere durante la fine del percorso universitario, l'esame di Stato e conseguentemente poi fare l'attività di commercialista. L'attività di commercialista poggia su un ordinamento professionale che è una legge dello Stato che prevede una serie di competenze prerogative esclusive dei commercialisti e sono sintetizzabili anche in specializzazioni. La specializzazione noi non abbiamo specifica come può essere quella del medico che è geriatra, ortopedico. La specializzazione è una specializzazione più di indole e di attività che uno svolge che una specializzazione giuridico-normativa. E' chiaro che ci sono specializzazioni che sono stimolate dalla modernità come questa della sostenibilità e la specializzazione deve avere una peculiarità che deve essere, deve avere un'autonomia reddituale perché è fondamentale che la specializzazione abbia un'autonomia reddituale se no uno è specializzato ma se non chiude a fine mese le fatture e non se le fa pagare è una specializzazione che ha più caratteristiche di volontariato che di professione perché la professione è strettamente correlata agli introiti che sono introiti non da lavoratore dipendente e quindi non quantificati in ore lavoro possono essere ore lavoro e con compensi molto elevati come con compensi anche molti limitati perché sottostanno a parametri in virtù di quello che è l'attività che viene svolta. Ed è Tavonanti, questo porta direttamente alla seconda domanda che infatti è quale specializzazione conviene oggi scegliere per essere domani un commercialista allineato al mercato? Il commercialista per Antonio Masi è un fiscalista per tutta l'opinione pubblica il che non è assolutamente vero perché il commercialista è stato sodomizzato se mi permettete un termine dalla riforma fiscale e dalle riforme fiscali in realtà è un consulente d'impresa e il consulente d'impresa si può occupare di consulenza strategica consulenza amministrativo contabile, consulenza fiscale e consulenza anche di carattere normativa per quanto riguarda l'attività normativa del commercialista. La specializzazione da scegliere è una specializzazione che uno si sente o che incontra nell'attività di introduzione, di apprendistato che svolge. Oggi sembrerebbe tutto deporre a vantaggio della specializzazione nella transizione di sostenibilità tenendo conto che a mio parere nel tempo le imprese più grandi che stanno iniziando e quelle più formalizzate dovranno fare documentazione, predisporre documentazione decisioni del board in virtù della sostenibilità e della socialità. Ci sono le imprese determinate dagli ESG e ci sono le società benefit anche che sono società che hanno nello statuto le previsioni di carattere sociale esterne con gli stakeholder e interne con i lavoratori sotto forma di welfare del lavoro. Quindi è importante seguire con attenzione questo è tematico. La domanda questa è proprio dei ragazzi, quanto guadagna mediamente un commercialista dopo dieci anni di professione? Allora noi abbiamo dati cassa di previdenza che sono suddivisi per regione e sono suddivisi per fasce d'età. Il reddito medio del commercialista Valle d'Aosta, Lampedusa è di 45 mila euro nel 2022. Lordi e Annui che non sono i 45 mila euro del dipendente, perché quello sono 45 mila euro messi in tasca, noi sono 45 mila euro a soggettare a tassazione. Quindi il netto è sicuramente meno di 45 mila euro lordi annui, dato nazionale. Poi i redditi vanno aumentando, sono più alti al nord e vanno scemando verso le regioni del sud. La professione è anche diversa dal nord a sud perché le realtà imprenditoriali sono diverse. Io vengo da Brescia, Brescia è la prima provincia manufatturiera d'Italia e la terza in Europa. Da noi ci sono i capannoni con dentro le macchine e dentro gli operai ancora oggi. E quindi ha delle possibilità, la professione è diversa dalla piazza di Milano che è diventata la piazza più importante di carattere finanziario o dalla piazza romana che sono duemila e rotti anni che fa Roma e quindi tutto sommato è una piazza completamente diversa. Anche il commercialista, presumo come l'avvocato e il notaio, fanno cose diverse da Aosta a Lampedusa perché sono realtà diverse. Anche i redditi si abbassano ma probabilmente costa anche meno. A Milano il caffè costerà e a Lampedusa costerà, non lo so. Perciò ci sono anche questi parametri da valutare. Grazie, ringraziamo Michele De Tavonati, vicepresidente del Consiglio nazionale commercialista esperti contabili.